Musica Casa al buono, Carmine Adinolfi, nuovo sindaco, l'uscente Attilio Romano, il più votato. Capaccio Pestum, Ballottaggio, Accordo, Vosa, Sica contro Alfieri. Montesano sulla Marcellana, la consigliera Maniglia in Commissione Politiche Ambientali del Lancio, il sindaco Rinaldi a Roma per la parata della Festa della Repubblica. San Salvia le riprese del cortometraggio dei ragazzi dell'Istituto Comprensivo per Giffoni Experience. Padula per 200 infinito, gli studenti del Pisacane realizzano un video. Buonasera, bentrovati con il nostro appuntamento con informazioni di Uno News. Apriamo occupandoci di politica ed in particolare delle elezioni amministrative. Andiamo a Casa al Buono dove è Carmine Adinolfi, il nuovo sindaco, con la sua lista che ha ottenuto su circa 800 elettori recatesi alle urne quasi 600 preferenze. Il più votato è l'ex primo cittadino, Attilio Romano. Il nuovo corso a Casa al Buono parte ora nel segno della continuità ma anche del rinnovamento. Vediamo. Nessun dubbio a Casa al Buono sulla scelta dei cittadini a chi affidare la guida del comune. Carmine Adinolfi ha stracciato l'avversario del nuovo sindaco di Casa al Buono subentrando ad Attilio Romano, alla guida del centro valdianese per tre legislature, mantenendo il gradimento della comunità che lo ha premiato con 129 preferenze risultando il più votato. 596 voti ottenuti dalla lista Uniti per Casa al Buono per Adinolfi sindaco, mentre alla compagine sfidante della lista per Casa al Buono con candidato sindaco Francesco Romano, le preferenze si sono fermate a 163 voti. Ora si guarda al futuro e lo si fa nel segno della continuità ma anche nel segno del rinnovamento, puntare quindi a proseguire nel percorso già intrapreso ma allo stesso tempo dare spazio e forza alle novità e ai volti nuovi, come spiegato dal neoprimo cittadino Carmine Adinolfi. Nella nostra lista che in realtà si è rinomata per otto undicesimi, in Consiglio Comunale saremo sette consiglieri con due soltanto consiglieri uscenti e il resto tutti i nuovi consiglieri, oltre a me ovviamente sono il nuovo sindaco. Vogliamo portare avanti il progetto e il programma della vecchia amministrazione e alcune sono già in esecuzione in questo momento. Noi veramente siamo orgogliosi di essere anche in continuità e cerchiamo di portare anche qualche innovazione perché siamo diversi e vogliamo cercare anche nuove strade e veramente anche con il vecchio sindaco che è il Consiglio Comunale con noi insomma siamo orientati verso questo tipo di politica. Da subito ci concentriamo su alcuni progetti che sono già in fase di esecuzione. Abbiamo un progetto di opera pubblica che sta già in attività, dobbiamo riqualificare il centro storico e abbiamo già la gara di appalto in corso e dobbiamo subito dopo partire con l'appalto per riqualificare il Palazzo Baronale e sul quale noi puntiamo molto perché non deve essere soltanto un'opera pubblica ma deve portare sviluppo a Casalbuono e faremo in modo che poi può essere un volano vero per portare nuove attività a Casalbuono, economiche, investimenti di vario tipo, anche culturali ovviamente. Cosa vuole dire ai suoi concittadini? Vi ringrazio innanzitutto perché un consenso così ampio non ce l'aspettavamo. Questo ci porta ovviamente a essere molto più responsabili e anche molto più impegnati nel cercare di risolvere i loro problemi e faremo di tutto perché veramente possono essere soddisfatte le loro esigenze. È una grande fiducia che però noi cercheremo di non tradire. A sostenere il sindaco Adinolfi in consiglio per la maggioranza entrano oltre al sindaco usciente Attilio Romano più eletto, anche Rosa Maria Ferrara con 72 voti, Esther Bianculli con 63 preferenze ottenute, quindi Giovanni Menta 51, Giuseppe Loguercio 48, Giuseppe Ponzo 43 e Antonio Curcio 40. Per l'opposizione entrano in consiglio Francesco Romano, candidato sindaco della lista per Casalbuono, Massimo Pace e Biagio Mango. E sempre per la politica, a Capaccio Pessum come in altri comuni del Salernitano sarà richiamato alle urne, i cittadini saranno richiamati alle urne per il ballottaggio del prossimo 9 giugno. A Capaccio Pessum si sfidano l'ex sindaco di Agropoli, Franco Alfiero, arrivato al 47%, e Italo Voza che si è fermato al 27%. Quest'ultimo però al prossimo turno arriverà forte del sostegno di Ernesto Sica e del suo 25% dei consensi. L'accordo Voza-Sica infatti è ufficiale. Non si fanno attendere le mosse strategiche di Franco Alfieri e Italo Voza a Capaccio Pessum in vista del ballottaggio di domenica 9 giugno prossimo. Come già paventato durante la campagna elettorale, i medici Italo Voza e Vincenzo Sica uniranno ufficialmente le proprie forze e coalizioni. Ci hanno messo appena 24 ore infatti per trovare l'intesa giusta e suggellare l'apparentamento totale tra le rispettive liste, sulla base di punti programmatici convergenti e di uno spiccato valore identitario. Su un mandato unanime di tutti i candidati delle nostre otto liste, si perviene all'accordo di apparentamento ufficiale secondo la normativa vigente, che sarà formalizzato con le modalità di legge e presentato pubblicamente con una manifestazione alla quale sarà invitata tutta la cittadinanza di Capaccio Pessum. Questo il testo del documento sottoscritto da Voza e Sica, che puntando sulla somma algebrica dei voti collezionati al primo turno cercheranno di difendere, coi denti, il margine di circa 600 voti di vantaggio. Il competitor Franco Alfieri però non è rimasto certo a guardare. Forte del 47,49% registrato in prima battuta, ha chiamato subito a raccolta tutti i candidati per serrare i ranghi e spronarli a vincere anche il secondo tempo della partita elettorale, inondando i suoi canali social di videomessaggi densi di ottimismo. Cambiamo argomento, andiamo in Regione Campania, dove è stato approvato ieri dal Consiglio regionale il taglio dei vitalizi. saranno interessati dalla nuova legge 172 ex consiglieri regionali e 60 famiglie che ricevono assegni di reversibilità per un totale di 232 pensioni, su cui cade la scura. Il risparmio è di circa 2 milioni di euro all'anno per le casse di Palazzo Santa Lucia. Le casse della Regione Campania potranno contare su circa 2 milioni di euro in più all'anno e quanto sarà risparmiato dal taglio ai vitalizi approvato ieri dal Consiglio regionale. La nuova legge prevede un taglio delle pensioni ai 232 ex consiglieri regionali e ai loro familiari in caso di reversibilità. Istituisce l'indenità a carattere differito che viene attribuita ai consiglieri e agli assessori regionali a partire dalla legislatura in corso, cessati dal mandato, che abbiano compiuto almeno una legislatura dai 65 anni di età e secondo il metodo di calcolo contributivo. Sono stati determinati un tetto massimo e uno minimo di trattamento che non possono essere superati con il ricalcolo nel pieno rispetto dei diritti acquisiti dai percettori dei vitalizi e si colma un vuoto legislativo circa il futuro pensionistico dei consiglieri regionali a partire da questa legislatura e quanto ha spiegato il Presidente della Commissione Bilancio del Consiglio. La riduzione sarà almeno del 20% su una spesa annua che oggi è di 10,7 milioni di euro. Il provvedimento, si legge nel testo, è finalizzato a conseguire un risparmio di spesa in una più generale ottica di riduzione dei cosiddetti costi della politica nel recepire quanto ha formato oggetto dell'intesa Stato-Regioni. A prevedere i ricalcoli in realtà è la legge di bilancio del 30 dicembre del 2018 con cui il Governo ha determinato che in caso di inadembienza delle regioni entro il 30 maggio non è erogata una quota pari al 20% dei trasferimenti erariali a loro favore. Da qui l'intesa in conferenza Stato-Regioni per evitare disomogeneità tra gli enti. La legge è stata approvata con 39 voti favorevoli e l'assenzione del solo consigliere Francesco Emilio Borrelli. Per il politico dei Verdi la nuova legge non taglia due punti fondamentali. Il divieto di cumulo tra vitalizie al trassegni di quiescenza e il taglio della reversibilità a fronte di redditi alti degli eredi. Entrerà comunque in vigore dopo la pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Campania ma avrà effetto dal prossimo mese di dicembre. Andiamo ora a Montesano doppia soddisfazione per l'amministrazione comunale dall'Anci. Arriva la notizia dell'elezione a membro della Commissione Nazionale Politiche e Ambientali dell'Anci della consigliera Marzia Maniglia. Intanto il sindaco Giuseppe Rinaldi si prepara a partecipare alla sfilata a Roma per la festa della Repubblica in programma domenica 2 giugno. Duplice soddisfazione per Montesano in queste ore è infatti arrivato l'annuncio per l'amministrazione comunale che la consigliera Marzia Maniglia è stata nominata membro della Commissione Nazionale dell'Anci per le Politiche Ambientali e Territorio. Un importante riconoscimento che premia il suo lavoro e l'attenzione con cui la giovane amministratrice comunale svolge il suo incarico. Marzia Maniglia entra quindi a far parte di una commissione che tratta tematiche di particolare rilievo per tutto il territorio valdianese e per Montesano in particolare vista l'attenzione posta ai temi ambientali e viste le battaglie che l'amministrazione conduce contro la realizzazione di una stazione elettrica sul territorio. L'ingresso dell'assessore Maniglia nella commissione dichiara il sindaco Giuseppe Rinaldi rinnova una collaborazione con l'Anci importante ancor più in considerazione della nomina ottenuta in una commissione particolarmente cara a Montesano la Commissione per le Politiche Ambientali e Territorio una nomina importante continua Rinaldi sia per le opportunità che ne conseguono per la nostra Marzia Maniglia e sia perché tema che tocca da vicino la realtà di Montesano vista il legame con la vicenda terna. Da questo punto di vista dichiara ancora il primo cittadino è per noi una garanzia significativa. L'Associazione Nazionale Comuni d'Italia è inoltre impegnata anche nella formazione dei giovani amministratori con diversi progetti in cantiere tra cui la realizzazione del Winter School che coinvolgerà i giovani amministratori nella formazione amministrativa per le buone pratiche. Intanto è arrivata anche un'importante soddisfazione per il sindaco di Montesano Giuseppe Rinaldi che domenica prossima a 2 giugno sarà a Roma a sfilare durante la festa della Repubblica nella parata militare che come di consueto si apre con la sfilata dei 300 sindaci provenienti da tutta Italia indossando la fascia tricolore. E per me spiega Rinaldi motivo di grande orgoglio aver ottenuto la possibilità di partecipare alla sfilata in cui noi sindaci rappresenteremo i nostri comuni. Un sentimento di orgoglio per me derivante non solo dalla possibilità di rappresentare il mio comune Montesano ad una importantissima manifestazione nazionale ma anche per i valori stessi che l'evento rappresenta e in cui io mi riconosco. Era nell'aria e adesso è ufficiale il comandante del nucleo operativo e radiomobili della Compagnia Carabinieri di Sala Consiglia Gaetano Ragano ha ottenuto la promozione e la terza stella che lo eleva a grado di capitano dei Carabinieri. Accanto quindi al capitano Davide Acquaviva la Compagnia Carabinieri può ora vantare la presenza di un secondo capitano alla guida del Nord dove il capitano Gaetano Ragano è giunto nel 2014 da parte della redazione di Uno TV e dell'editore Valentino Di Brizzi più sinceri e sentiti auguri al nuovo capitano Ragano. Andiamo avanti restiamo però nel tema delle forze dell'ordine l'operazione Shockwave ha visto operare insieme sui mari della Campania la Guardia Costiera e la Guardia di Finanza sono state accertate in poche settimane molte violazioni sia in materia di sicurezza della navigazione che della concorrenza ma ascoltiamo i dettagli nel prossimo servizio. L'operazione Shockwave appena conclusasi sui mari della Campania ha visto operare insieme la Guardia Costiera e la Guardia di Finanza in un'attività congiunta a tutela delle attività commerciali della nautica da di porto e dei passeggeri. I comandi della direzione marittima Guardia Costiera della Campania e il reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Napoli nelle scorse settimane hanno effettuato con un importante dispiegamento di uomini e mezzi 318 controlli di cui 89 in mare e 229 a terra elevando sanzioni amministrative per oltre 18.000 euro. L'operazione ha interessato in particolare le unità da di porto utilizzate ai fini commerciali come la locazione il noleggio e il cosiddetto noleggio occasionale oltre che le imprese che gestiscono tali servizi turistici accertando e sanzionando numerose violazioni sia in materia di sicurezza della navigazione che della concorrenza. Quello della nautica da di porto è un settore in continua espansione e le attività ispettive sono necessarie per tutelare tutti i soggetti che svolgono tali attività nel pieno rispetto della normativa fiscale previdenziale di sicurezza della navigazione marittima per il trasporto passeggeri. Shockwave proseguirà assicurano anche nel periodo estivo per continuare a garantire la legalità e la sicurezza dei passeggeri che frequentano numerosi nostri mari. E cambiamo ora argomento andiamo a Petina dove è in preparazione il territorio comunale in preparazione all'atteso evento in programma nel mese di giugno e dedicato al prodotto tipico di Petina la fragolina di Bosco venerdì prossimo 31 maggio presso l'aula consigliare del comune di Petina in piazza Umberto I si terrà un convegno sul tema fragolina di Bosco le alternative concrete per coltivare il futuro di un prodotto e di un paese l'incontro prenderà il via alle ore 17 ed è finalizzato a discutere in maniera dettagliata sul futuro del rinomato prodotto italiano che sta attraversando un periodo di crisi sia nella produzione che nella commercializzazione durante il convegno si parlerà di nuove frontiere per la coltivazione dei prodotti del sottobosco di misure europee regionali e locali per la promozione e infine social marketing del prodotto l'appuntamento sarà anche occasione per presentare il programma della cinquantesima edizione della festa della fragolina di Bosco in programma nei giorni 15 e 16 giugno prossimi andiamo ora a Padula dove il progetto Biotipic la nuova frontiera nella battaglia per salvaguardare salute e ambiente sarà presentato sabato prossimo primo giugno vediamo Biotipic un progetto nato nel cuore del parco nazionale del Cilento Vallodidiano e alburni con l'intento di creare una nuova cultura del ritorno alla natura e incentivare l'utilizzo di prodotti naturali si presenta come la nuova frontiera nella battaglia per salvaguardare salute e ambiente e trova nelle obiotica i principi fondanti da applicare nella vita di tutti i giorni quindi l'utilizzo di prodotti non realizzati dall'industria chimica e un'alimentazione sana e consapevole il tutto associato a nuove idee di sviluppo agricolo in un ambiente più adatto all'uomo attraverso l'agricoltura e obiotica l'e-commerce e i gruppi di acquisto solidale i dettagli del progetto Biotipic saranno illustrati nel corso della conferenza stampa in programma sabato primo giugno a Padura nella Certosa di San Lorenzo a partire dalle ore 10.30 ad aprire l'incontro di presentazione saranno i saluti del presidente della comunità montana Vallodidiano Raffaele Accetta del presidente del Gal Vallodidiano Attilio Romano e del presidente del Parco Nazionale del Cilento Vallodidiano Alburni Tommaso Pellegrino a seguire gli interventi di Nicola Maccapane amministratore della cooperativa sociale Biotipic Corrado Caputi responsabile regionale del settore agricoltura progetto COEM Annalisa Guerini biologa e titolare di Kim Control di Firenze Luigi Montano urandrologo dell'Asra di Salerno e coordinatore del progetto Eco Food Vertility e di Riccardo Marmo primario di gastroenterologia presso il Luigi Corto di Polla oltre che presidente dell'associazione Sani E ora ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria restate con noi Bentornati alla seconda parte del nostro TG nuovo progetto di integrazione per gli ospiti dei centri di accoglienza SPRAR domani mattina presso la sede della provincia di Salerno si terrà la conferenza stampa di presentazione del progetto formazione innovativa e insedimento lavorativo in agricoltura per migranti titolari di protezione internazionale il progetto coinvolgerà 15 ospiti dei centri SPRAR di Polla Padula Bello Sguardo Roscigno Rocca d'Aspide Santa Marina e Atena Lucana provenienti da Mali Nigeria Camerun Gambia Ghana Guinea Senegal e Togo alle ore 10 la presentazione del progetto presso la sala giunta dell'ente provinciale alla presenza del vicepresidente Carmelo Stanziola di Don Vincenzo Federico della cooperativa sociale Terzium Millennium Franco Argelli di Avsi Monica Molteni del consorzio Farsi Prossimo e Salvatore Loffreda dei Coldiretti Campania Andiamo ora a stanza dove sono iniziate le riprese per la realizzazione del film cortometraggio che sarà poi protagonista di Giffoni Experience un progetto voluto dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Vittorio Esposito e che vede coinvolta tutta la comunità e protagonisti ragazzi Sanza protagonista del Giffoni Film Festival con i suoi ragazzi sono iniziate le riprese per la realizzazione del film che racconterà la storia e la cultura di Sanza nel festival cinematografico per ragazzi Giffoni Experience i ragazzi dell'istituto comprensivo di Sanza Buon Abitacolo nell'ambito del progetto School Movie promosso dall'amministrazione comunale sansese si sono quindi messi in gioco e nei giorni scorsi hanno completato la stesura della sceneggiatura del cortometraggio che sarà poi proiettato durante il Giffoni Film Festival in programma dal 19 al 27 luglio prossimi ora i ragazzi da sceneggiatori hanno indossato i costumi per dare il via alle riprese del film dal titolo L'amore vince sempre il tempo studenti che si sono trasformati in sceneggiatori attori e registi per raccontare e di conseguenza promuovere le eccellenze storico-artistiche e culturali del comune di Sanza grazie al supporto dell'amministrazione comunale sansese e dell'assessore alle politiche sociali attraverso la narrazione di una storia che sono stati gli stessi allievi dell'istituto a redigere e a trasformare in sceneggiatura con il supporto della docente Anna Maria Gallo a curare le riprese del film iniziate nei giorni scorsi Aniello Nigro e Tina Galano con il coinvolgimento anche del vice sindaco Tony Lettieri nel ruolo di assistente fonico i ragazzi in questa avventura in cui trasformano una storia d'amore senza tempo in film possono contare anche sul supporto della comunità la storia racconta le vicende di un soldato della seconda guerra mondiale del suo amore lasciato in paese la storia di una nonna dei suoi nipoti una lettera ritrovata dopo 70 anni straordinari i luoghi ripresi nel corto dal ponte Labbate al vecchio mulino alle abitazioni del centro storico con la sua torre medievale abbiamente soffrire questa possibilità ai nostri ragazzi ha dichiarato l'assessore Marianna Citera in modo che possano conoscere ed apprezzare da protagonisti il mondo del cinema ringrazio quanti hanno collaborato alla realizzazione di questo progetto le mamme per la loro estrema disponibilità la nostra storica farmacista la professoressa Gallo e soprattutto i ragazzi per la loro grande volontà e per il loro impegno ora conclude appuntamento a Gifoni dal 19 al 27 luglio per goderci questo cortometraggio che poi proietteremo anche a Sanza si sono celebrati i festeggiamenti per i 200 anni della stesura della lirica all'infinito di Giacomo Leopardi per l'occasione il MIUR in collaborazione con Casa Leopardi di Recanati hanno proposto un flash mob internazionale a rientrare tra le 54 scuole italiane riconosciute per l'iniziativa anche il liceo scientifico Carlo Pisacane di Padula vediamo sempre carne fu quest'ermocorne e questa siena che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guarda escluso ma sedendo e mirando interminati spazi di là da quello e sopra umani silenzi io nel pencere il liceo scientifico Carlo Pisacane di Padula tra i 56 istituti nazionali ed internazionali che hanno partecipato all'evento promosso da Casa Leopardi e dal MIUR per le celebrazioni dei 200 anni dalla stesura della più famosa opera poetica di Giacomo Leopardi L'Infinito e lo hanno fatto riuscendo a ricreare in maniera suggestiva le sensazioni che trasmette l'opera con sfondo l'immensità dei giardini della Certosa di San Lorenzo accompagnati dalla musica e dai balli che esaltano i sentimenti il tutto racchiuso in un video 54 le scuole italiane più due scuole straniere di Cina e Finlandia riconosciute per l'evento promosso nella giornata di ieri che in contemporanea ha visto 2.800 all'uni dei vari istituti coinvolti in un flash mob per la celebrazione dei 200 anni dell'infinito la campagna in questa speciale iniziativa ha risposto presente come poche regioni in Italia e lo ha fatto con ben sette istituti di questi sette istituti soltanto due sono della provincia di Salerno e si tratta dell'istituto Moscati di Ponte Cagnano Faiano e del liceo scientifico Carlo Pisacane di Padula con i ragazzi della dirigente scolastica Liliana Ferzola che ieri mattina in occasione del flash mob internazionale hashtag 200 infinito si sono ritrovati presso la certosa di San Lorenzo per le celebrazioni del bicentenario della stesura della nota lirica leopardiana accettata la richiesta ufficiale di adesione all'iniziativa promossa dal ministero dell'istruzione in collaborazione con Casa Leopardi di Recanati i ragazzi del Pisacane si sono adoperati per essere all'altezza delle celebrazioni e lo hanno fatto realizzando un video adenendo al progetto Casa Leopardi chiedeva che gli alunni degli istituti partecipanti realizzassero per la data del 28 maggio una delle tante attività artistiche proposte i ragazzi di Padula hanno scelto la realizzazione di un video con protagonista l'imponente monumento certosino patrimonio unesco con sfondo i suggestivi giardini della certosa di San Lorenzo i ragazzi hanno interpretato magistralmente i versi della poesia all'infinito con coreografie che hanno accompagnato i versi di sottofondo che ha consentito di lasciare spazio all'immaginazione e al ricordo del grande poeta immaginandolo mentre compone l'opera e andiamo ora a Polla a bilancio positivo per l'iniziativa finalizzata a sensibilizzare verso la lettura promossa dal comune di Polla e dedicata ai ragazzi delle scuole primarie nell'ambito del rassegna maggio dei libri vediamo si è conclusa pertosa attività proposte e attività proposte dai volontari quali letture di gruppo e comprensione della morale seguite dalla creazione su grandi cartelloni di una favola da loro inventata dal titolo che mondo sarebbe senza libri l'incontro finale che ha visto la presenza del sindaco Rocco Giuliano del presidente del consiglio comunale Giovanni Corleto e della dirigente scolastica la professoressa Paola Sabatino si è concluso con il lancio degli aeroplani sui quali i bambini hanno potuto esprimere e condividere il loro amore per la lettura e la consapevolezza della sua importanza oltre che l'apprezzamento per l'operato dei volontari le iniziative di sensibilizzazione promosse dal comune di Polla proseguiranno anche per l'estate con la campagna Sai che nella tua biblioteca puoi ed era questo l'ultimo servizio di oggi io vi ringrazio per averci seguito vi auguro un buon proseguimento di serata grazie a tutti